Il cibo è sempre molto complesso da adoperare con i cavalli, per loro è una leva molto forte. Vedete già si cominciano un po' ad agitare perché vedono che ho la carotina. Il mio scopo è quello di far capire ogni cavallo che la carota è mia, però in una forma di collaborazione posso darla su loro. E qual è la collaborazione che richiedo loro? Un cambio di stato mentale, uno stato mentale in cui né entrano in lotta tra di loro né pretendono con me. Non è un rinforzo positivo perché io cercherò di stimolare il loro stato emotivo, non di capire cosa devono fare e infatti la carota gliela darò esclusivamente quando li sentirò rilassati, quando sentirò che la loro richiesta non è più pressante. Abbiamo qui Pegaso e Ibi, vedete come si allungano giustamente perché vedono la carota e io cosa fanno? È la. Questo è il primo atto che fanno tra di loro, è mia, è mia. Mia, mia perché? Perché credono che la carota sia già destinata a qualcuno di loro. Io la carota l'avrei destinata a Ibi perché è la mia cavalla, però destinata nel senso che gliela do come cooperazione se lei mi fa sentire che non lo sta pretendendo, che è un qualcosa che dice ok non la sto volendo in maniera fobica, la sto volendo semplicemente perché me la dai. Questo noi se non siamo tenendo i nostri cavalli li teniamo rilassati anche con il discorso del cibo che è un discorso molto particolare e soprattutto gli facciamo sentire che ciò che ci appartiene non deve per forza essere sempre roba loro, quindi io posso anche girare con le carotine in tasca, posso avere qualcosa in mano senza per forza scatenare è mio, è mio. Cosa faccio per far questo? Mi avvicino al mio cavallo, gli faccio vedere la carotina perché non devo nascondere ciò che ho, loro devono capire che c'è qualcosa che gli può anche interessare, però questo non vuol dire interesse è mia, proprietà, no. non so, poi te la darò, se ti calmi te la darò amore. Ecco vedete adesso lei sta cercando di farmi capire che intuisce che io gli sto dando un messaggio diverso dal io chiamo e io dopo. Piano amore, piano, piano, no, no, piano, devi calmarti, io voglio che tu sia rilassata. Questo è un esercizio che abbiamo già fatto, infatti vedete anche Pegus, ho già capito che non deve entrare in lotta con Ibi, diversamente avrò già cominciato a prendersi l'uno con l'altro per prendere la carota. Ibi sta facendo di tutto per farmi capire che da ora non sto chiedendo, però se me la dai, è vero? Adesso quando io la sento calma, e questa è qui, è qui e non è qui, quello che vedo adesso si è distratta, quindi ha cambiato stato d'animo, dico Ibi, la chiamo, Ibi, ecco vedete sta già mangiando con più calma, chiamo Pegus che si è avvicinato però tranquillamente e gli faccio capire che la carota che io ho, che avrei potuto destinare a Ibi, perché è il mio partner, potrei anche condividerlo con lui, ma ha una condizione che non lo pretende innanzitutto nei confronti di Ibi, perché chiedere a Ibi qualcosa significa chiederlo a me in realtà e soprattutto non entrare in lotta tra di loro perché non deve esistere questo discorso dove cibo porta a combattimenti, a lotta. Devono rimanere calmi, calmi tra di loro, calmi con me, uguale, ok collaboriamo, cooperiamo e ciò che prima era mio diventa tuo, posso dartelo, posso offrirtelo. Pego ha già cambiato un po' di stato d'animo, vedete, lo chiamo, Pego, bravo Pego, ha cambiato stato d'animo, ha calato quella sua richiesta, è ancora un po' presente perché sono esercizi che stiamo facendo da poco, quindi non è che possiamo pretendere che un cavallo cambi dalla mattina alla sera, però cerchiamo di fare sì che il loro stato d'animo sia il loro punto focale, non l'atteggiamento, non io va bene mi giro dall'altra parte, non è quello che io devo vedere, devo vedere la loro calma, la loro non richiesta emotiva. Adesso provo a tornare a cura di Ivi, vedete, prego, prego amore, non devi chiedere, ecco bravo, vedete come si è girato, si è girato perché ha detto, perché devo entrare in lotta con Ivi? C'è qualcosa anche per me se io cambio dentro, quello che c'è questo signore me lo può condividere anche con me se però io sono caldo. Prego, su, muore, su, 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 guardami, 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 bravo. Chiedo attenzione perché non voglio che lui capisca che quello che io voglio è la non attenzione e la distrazione di un'azione, voglio che lui mi capisca nell'intimo, cioè capisca che non voglio che io lo senta agitato, che gli senta agitato. Guardate sono dentro un recinto 4 cavalli, normalmente prima di fare questo esercizio un paio di volte in presenza del cibo diventavano l'uno l'antagonista dell'auto, i miei, i miei, i miei. Oggi sono già più tranquilli, l'abbiamo fatto due volte e basta. Quindi gli animali dimostrano, i cavalli dimostrano quanto in realtà sono in grado di capire, sono in grado di apprendere, sono in grado di intuirci nelle nostre intenzionalità. Quello che io cerco di fare in modo che loro capiscono è che devono rimanere tranquilli tra di loro in presenza del cibo, quindi non competizione nel cibo e soprattutto che quando ci siamo noi esseri umani che cambiamo le loro dinamiche perché siamo presenti, offriamo e ci comportiamo e richiediamo, loro devono capire che devono mantenere inalterato il loro stato d'animo. Non è che se io mi rivolgo a un mio cavallo o a un altro cavallo se arriva un altro lo manda via immediatamente, ha dei diritti e quindi si tira su di stato d'animo. loro devono capire che questa carota, queste carote sono mie, non sono loro, c'è una mia proprietà, è un mio stato d'avere in questo momento ma che però sono disposto a offrire per una collaborazione. Qual è la collaborazione che sto cercando da loro? La collaborazione è che rimangono calmi, tranquilli, non diventino fobici, non dicono il cibo è mio, dammelo, dammelo e facendolo vedere, facendo in modo che loro non sentano qualcosa di nascosto potrò anche un giorno avere le mie carottine in tasca e avere qualcosa in tasca. Dimmi Emanuela. Perché l'ha staccionata in mezzo? La staccionata in mezzo è una cosa che avrei detto fra un po'. Questo esercizio lo faccio proprio per questo motivo separato perché sappiamo che i cavalli in presenza di cibo possono diventare abbastanza irruenti ma non tanto solo nei nostri confronti che bene o male con noi sono già abbastanza confidenti e quindi ci evitano e cercano il più possibile di avere dell'attenzione ma tra di loro come avete visto magari prima creano questa tensione dove vogliono a tutti i costi il cibo che hai tu e quindi se tu ti trovi in mezzo rischi di avere un momento di pericolo perché si possono utare, possono fare qualcosa che ti può far cadere. Diversamente da questa staccionata cosa avrei dovuto avere? Avrei dovuto avere una capezzina, avrei dovuto avere la corda e nel momento in cui succede qualcosa o a fare una fase, chiamiamola così, dargli una botta con lo stick e mandarlo via, avrei dovuto creargli una tensione e una paura tale da poterlo allontanare, cioè avrei dovuto vincere quel suo modo di fare dimostrando di essere più forte, dimostrando io che ho caratterialità di potere. Però che messaggio gli sto dando il mio cavallo? Gli sto dicendo quando tu stai chiedendomi qualcosa io no, mi rigidisco, ti do una sensazione di potenza e di forza, devi fare quello che voglio io come quando voglio io. La staccionata mi permette invece di avere un dialogo con il mio cavallo dove non opero con nessun tipo di strumento e do la possibilità a voi di capirmi con tranquillità e io ad essere in sicurezza. Posso muovermi andando indietro evitando che loro mi vengano incontro, cosa che invece se fossi in libertà potrebbe essere rischiosa, non so, perché si possono tirare su un po' d'animo e non avendo lunghina e non avendo stick non potrei fare nient'altro che fuggire. Però dato che io non voglio lavorare con degli strumenti, non voglio dare un segnale al mio cavallo di foglio, di potenza, di irruenza, ma voglio dire no, io non voglio che tu capisca che mi devi temere e questo te lo dimostra. Io voglio capire che devi intuirmi e quindi sto a di qua per darti la possibilità di avere il tempo di capire il mio messaggio che è rilassato proprio perché sono in tranquillità e sono in sicurezza. In questo caso il cibo era proprio il fulcro dell'esercizio, nel senso che utilizzavi il cibo per comunicare, per insegnare, educare. Esatto, perché il cibo purtroppo, anche se tanti lo criticano, perché potrebbe apparire come rinforzo positivo, è una delle poche leve a cui il cavallo risponde, perché il cibo per loro è vita. Quindi io agisco inizialmente, adesso non più perché con loro questo esercizio l'ho già fatto un paio di volte, però inizialmente bisogna lavorare sull'impulso primario che è quello della voglia del cibo. Però la mia mentalizzazione non è usare rinforzo positivo, quindi cambi posizione, non mi minacci più, non richiedi più carotina. Quello è rinforzo positivo. Il mio intento è adoperare per i primi secondi questo tipo di leva perché è quella che a te ti porta il desiderio di farlo, ma io so già dove voglio arrivare. Voglio arrivare che fatto questo procedimento farò subito qualcosa di diverso che ti stimoli a capire che non era l'azione, non era quella cosa che hai fatto, che ha fatto sì che capitasse che avessi la carota, ma era qualcosa di diverso. E quindi lavorerò su tante diversità inizialmente di azione perché gli voglio far capire che io non sto puntando quello, l'azione che lui sta compiendo non è quella in cui io voglio che lui vada, non è girare la testa da una parte dall'altra, ma è lo stato emotivo. Quindi per quello prima ho detto aspetto che si calmi e non è la testa che gira e che quindi devo entrare io dentro del mio cavallo per sentirlo tranquillo. Perché Pego prima ha girato la testa e uno dice bravo, ha già fatto quello che doveva, dagli la carota. No, quello sarebbe stato un rinforzo, quando giri la testa e quando non chiedi ti do la carota. Ma in quel momento lui aveva girato la testa ma dentro era rimasto uguale. Era ancora, ho capito che vuoi che non ti guardo. Io era, no, non è che non mi devi guardare. E per quello che poi ho richiamato la sua attenzione, per dirgli guarda che non è che io non volevo che tu mi guardassi o che mi stessi vicino, volevo che tu dentro fossi rilassato. Quindi puoi avere la testa verso di me, puoi avere la testa su, puoi avere la testa giù, come vuoi tu, ma è dentro che mi devi dimostrare di essere tranquillo. Quindi non è un rinforzo positivo che si basa su un'azione precisa, ripetuta e che quindi dà un risultato che non porta a capire qualcosa di diverso dall'azione, ma bensì io voglio che loro intuiscono che il mio è un dialogo mentale, non fisico, un dialogo in cui dentro si cambia, non fuori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.